Buongiorno, mi chiamo Rebecca Servadio, sono una scout londinese, sono qui in questa fiera del libro Salone di Torino per occuparmi dell'IBS. Allora l'IBS è la International Rights Forum dell'editoria italiana dove si ritrovano tutti gli editori italiani, i produttori, gli agenti, quelli che fanno i diritti esteri e dove si viene per parlare e incontrarsi e soprattutto vendere libri italiani e comprare libri stranieri qui in Italia. Noi siamo un gruppo, c'è Alessia Polli, ci sono io, c'è Mattia Caratello e Giorgia De Agiles e insieme abbiamo costruito questo forum di persone che quest'anno è molto più grande, molto più potitivo e fertile dove ci sono stata tante vendite e tanti libri importanti. Ecco, è stato un'altra cosa.